in questo episodio allora ragazzi siete nudi e inquietanti giù per lo scarico giù per lo scarico ciao a tutti i criotes e benvenuti in questo nuovissimo video oggi ci troviamo di nuovo su outlast ce l'avevamo lasciati che dovevamo prendere la scheda di magnetica per entrare in quella porta sono in compagnia di Manu ciao vediamo se possiamo andare avanti senza indugio andiamo bene ce l'avevamo lasciati qui adesso andiamo a vedere se riusciamo a mettere quella scheda magnetica che mi pare che era di qua di nuovo quel tizio apriti sedano ma cosa del lie la bugia quel tipo inquietante di prima ha spento tutte le luci qui nooo nel semi interrato oh porcellino ciao sta zitto non respirare devo uscire no 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 ma anche no vai a destra ciao eccomi sono qui eccomi non mi vedi non mi vedi aiuto corri come se non ci fossero domani allora avevo dimenticato che tengo la telecamera con questa funzione no la cosa non viene inquietante bene sono arrivato davanti davanti al generatore attiva le due pompe attiva le due pompe e come cavolo li attivo questa si purtroppo si ma si più forte delle pile secondo voi secondo voi me ne accorgerò quando si entrerà in questo posto ma non lo vedo non sono qui sotto al letto non ci sono sei andato in cielo bravo è lì che sto porca puttana scappa scusami ecco ho preso un po' fiato speriamo che non mi abbia visto e e niente se voglio uscire da questo manicomio ciao sono in quell'altra maglietta oh l'ha aperto veramente pronto a correre con te ah forse l'ho trovato quello attivare due pompe del gas e l'interruttore principale qual è l'interruttore principale quindi quindi ho attivato le due pompe devo trovare l'interruttore principale cioè che credo che sia quello lì dove quel tizio nel nel video ha tolto la corrente solo che non ho idea di dove sia è questo tizio che mi insegue non mi aiuta a trovarlo questo episodio lo intitolerò l'ansia dell'armadietto ed è la fotocamera che se finisco le pile buonanotte fiorellino ma ciao quanto sei bello in fotocamera guardati sei un figone quindi dovrebbe stare per forza qua l'interruttore principale vieni a giocare dai piccolo piccolo ecco anche l'interruttore finalmente questo interruttore del cazzo è anche due pile che vuol dire tornare ai comandi di sicurezza salvataggio finalmente ragazzi la luce oh questa storia è stata molto oh respiro nel frattempo qui qualcuno ha sfondato la porta ok salvataggio ma che non lo sapevo te l'ho detto questo che fino ha fatto perdonami figliolo non avrei mai voluto farti questo ma non puoi andartene non ora devi ancora vedere molte cose ma io posso liberarmi lo vedi riesci a vedere il wire led nostro signore impone il suo verbo ai miscredenti c'è una sola via di uscita da questo posto è di attraversare attraverso la verità abbraccia il vangelo e ti apriamo tutte le porte ti apriranno tutte le porte ciao ti sei narcotizzato con una siringa vuota lo sai certo che la telecamera te la lascia figura resti in basso riposo in basso che faccio ciao quello che avrebbero dovuto far paura e lo so ma intanto e questo chi è? o voglio decidere anche io il particolare ci ha chiesto di non farlo gli diamo un vantaggio? ma certo vabbè voi decidete dopo io nel frattempo devo cercare delle batterie del merda non sono convinto di trovarle qua ma ok non so dove devo andare e come scappare da qui qualcosa mi dice no bene vabbè ragazzi la risposta deve essere in una di queste stanze per forza ciao ma senti libero? no eh genio allora ragazzi siete nudi e inquietanti e vabbè paloi eccola via ma ecco ragione matti oh oh già mi sei finito puoi prendere la gabbia di perché ti volevano uccidere l'entrometto? puoi sono morto non sono morto non sono morto salvataggio loco loco Giù per il tubo Giù per il tubo Anche io Aspetta La 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 Giù per il tubo Giù per lo scarico Giù per lo scarico Giù per lo scarico La 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 Bene ragazzi Per questo video è tutto Nel prossimo video Andiamo giù per lo scarico Mettete mi piace Se il video vi è piaciuto Per sostenere la serie Commentate Iscrivetevi al canale Se non l'avete fatto E il prossimo video Sarà 20 visualizzazioni Questo video è tutto Da Gene e Manu Ciao Crazers